Nannini Gian, e vorresti fare la cantautrice? Eh, sì, certo. E che cos'è per te la felicità? Una stanza da qualche parte con un pianoforte. E cos'è che ti fa paura? La pazzia. Ho fatto il giro dei negozi dischi tutta Milano. Non ci sono. Se il nome è sulla schifezza igiene, te non ce lo metti, chiaro? Se tutto quello che senti non sai metterlo dentro la musica, non so cosa stiamo facendo qua. Penso non riesco più a cantare. Se la musica è la tua arma, allora combatti con quello. Perché rinascere è più bello che nasce. Io faccio che mi pare. Exceluro أن 산 la mano è�ì più che ne vede tutti che su ... La 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 la... Si sta ascoltando textura... No morいうこと. La notizia che vive questo, corsa va con NOI